Musica Sicosi ragno violino, non in valle però, più rischi da zecche e vespe. Panico a Bormio in 10 bloccati per 40 minuti sulla funivia. Con l'auricolare all'esame per la patente, denunciato. Il Palamerizzi sarà casa della ginnastica di Valenza regionale. Le attività che soffrono, l'appello di Viviana, ho bisogno di voi per non spegnere il faro. Un saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Ogni giorno una notizia allarmante di morsi addirittura letali. È ormai vera e propria psicosi e ragno violino. Ma siamo proprio così certi che sia così pericoloso? E soprattutto quanto siamo a rischio in provincia? Ne abbiamo parlato con il professor Paolo Pantini, aracnologo e tra i massimi esperti in materia, che oltre a parlare di fake news al riguardo, invita piuttosto a guardarsi da zecche, vespe e calabroni. Farà brividire anche soltanto visto in fotografia ed è inconsapevolmente e con ogni probabilità anche incolpevolmente diventato il tormentone dell'estate. È il ragno violino, in questi giorni all'onore delle cronache come capro ispriatorio per ogni tipo di morso che non si conosca. Addirittura per alcuni decessi. Sebbene fino ad oggi i dati scientifici raccolti non riportino nessuna morte che possa essere imputabile a questo animale. Ma è davvero tanto pericoloso e soprattutto qual è la situazione in provincia di Sondrio? In provincia di Sondrio il ragno violino non è mai stato segnalato. Questo non significa che non ci sia, anche se soltanto in Italia vi sono qualcosa come 1700 specie diverse di ragni, ma non in natura. Il suo areale è quello mediterraneo, dunque può essere giunto nelle abitazioni portato dall'uomo. Si trova nei sottotetti, nei locali tecnici, quindi in quelle zone buie e non frequentate. Detto questo, il professor Pantini, conservatore di zoologia degli invertebrati al Museo delle Scienze Naturali di Bergamo e soprattutto aracnologo tra i più quotati al mondo, assicura che il morso del ragno violino è evento assolutamente raro. Il ragno non vede nell'uomo una potenziale preda, quindi solitamente in presenza dell'uomo scappa o comunque se ne fa i fatti suoi e di notte non esce con l'intenzione di mordere una persona. Lo fanno le cimici dei letti, lo fanno le pulci, lo fanno le zecche, lo fanno tanti altri insetti e artropodi che sono parassiti dell'uomo, ma i ragni non sono parassiti dell'uomo. Riguardo a quanto di allarmistico viene diffuso dai media sulle conseguenze del morso del ragno violino, Pantini parla apertamente di fake news. È veramente un allarme ingiustificato, cioè i ragni sono degli animali che provocano il terrore alle persone. E questo è capito che da un punto di vista giornalistico solleticano perché se uno pubblica una notizia così probabilmente ci cliccano sopra in centomila, però si diffonde una vera e propria aracnofobia. Uno se cerca in casa di ragni ne trova abizzefe. Per l'esperto aracnologo in provincia di Sondrio gli insetti da cui guardarsi sono altri. Le zecche possono portare una sfida, possono essere vettori di una sfida di malattie, cioè di una pagina di malattie, della malattia di Lyme, di tutto e di più. I menoteri che possono dare shock anafilattico e poi soprattutto i menoteri sociali possono essere pericolosi anche perché se uno incidentalmente scopre un nido di calabroni o un nido di vespe, insomma, può essere seriamente attaccato. Non attimi ma minuti, addirittura una quarantina di panico oggi pomeriggio a Bormio. Vediamo perché. Pomeriggio è decisamente movimentato e difficile da dimenticare per dieci persone che si trovavano sulla funivia che collega Bormio a Bormio 2000. Questa infatti in fase di discesa erano passate da poco le 16. In seguito ad un guasso si è fermata nel vuoto e lì le persone a bordo sono rimaste in attesa di ripartire per una quarantina di minuti almeno, finché ha iniziato a serpeggiare un certo e più che comprensibile panico. Sul posto, in via Battaglion Morbegno, si sono portate così un'auto medica e i vigili del fuoco ma il loro intervento per fortuna non si è rivelato necessario perché la cabinovia è stata fatta scivolare fino alla partenza a Valle dove i dieci sono scesi spaventati ma illesi e senza alcuna necessità di essere presi in carico dai sanitari. Non l'ha fatta franca lo straniero che ha tentato di superare l'esame della patente facendosi suggerire le risposte attraverso un auricolare. I carabinieri della compagnia di Sondrio, durante un controllo alla motorizzazione del capoluogo, hanno sventato la truffa. Negli anni scorsi i casi furono diversi. Ora, dopo un periodo per così dire tranquillo, nuovo tentativo di superare l'esame della patente con scorciatoia alla motorizzazione di Sondrio. Tentativo, peraltro, naufragato in seguito al controllo effettuato dai carabinieri della compagnia di Sondrio finalizzato proprio a verificare il corretto svolgimento delle sessioni d'esame scritto. Nell'ambito di questo servizio, i militari dell'arma hanno controllato un 33enne straniero residente in provincia che nella stanza dove si sarebbe svolto il test di doneità era collegato telefonicamente con un auricolare con un altro soggetto in corso di identificazione per farsi suggerire le risposte corrette e superare così la prova. La truffa però non è riuscita e l'uomo, dopo essere stato escluso dall'esame, è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Sondrio in relazione a una legge di quasi cent'anni fa, del 1925, che punisce espressamente questo tipo di reato definito falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento della patente di guida. Allo straniero, insomma, non resterà che ritentare, non prima però di aver imparato l'italiano per comprendere e rispondere senza aiutini da casa, come nei quiz, ai vari quesiti. Con il recente via libera da parte della Giunta Comunale al progetto esecutivo è stato completato l'iter autorizzativo per la riqualificazione del Palamerizi di Sondrio, cantiere al via a inizio 2025 per l'edificio che sarà completamente demolito e ricostruito per diventare la casa della ginnastica di Valenza non soltanto provinciale ma addirittura regionale. L'apertura del cantiere è prevista per l'inizio del prossimo anno e quello che un tempo fu il Tempio del Basket, il Palamerizi, dopo oltre 15 anni dalla sua chiusura perché non più a norma, diventerà la casa della ginnastica, una casa all'avanguardia e di Valenza non solo provinciale ma regionale. L'approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto esecutivo avvenuta nella seduta di mercoledì segue di due mesi quella del definitivo e ha completato l'iter autorizzativo per la riqualificazione dell'edificio che sarà completamente demolito e ricostruito. Il fronte sud sarà allineato a quello della piscina comunale e oltre alla palestra di allenamento con tutte le attrezzature necessarie alle diverse specialità per la ginnastica artistica, previsti lo spazio per gli spogliatoi, le tribune per circa 150 posti a sedere e due sale polivalenti. Una volta ultimato dunque sarà un centro di eccellenza per le esigenze di un movimento in grande crescita che conta oggi 700 giovani praticanti in balle, 500 dei quali soltanto a Sondrio, per una disciplina destinata a diventare sempre più popolare anche a seguito degli straordinari successi olimpici delle fate a Parigi. La ginnastica meritava di avere una propria casa in città, commenta l'assessore allo sport Michele Diasio, e il Palamerizzi è l'impianto ideale. Il nuovo Palamerizzi andrà a qualificare ulteriormente un'area sportiva storica per la città, aggiunge l'assessore al bilancio Ivan Munarini, a formare un polo con la piscina e il palazzo Balilla sul quale stiamo intervenendo, che pure mette a disposizione spazi per la pratica sportiva. Il progetto del costo di 3 milioni di euro è finanziato per un milione e mezzo dal PNRR, al quale si aggiungono un contributo sulla QST di 700 mila euro e 800 mila di fondi comunali. L'investimento è ingente, continua Munarini, ma si tratta di soldi ben spesi, per un intervento edilizio di rigenerazione urbana, con soluzioni architettoniche innovative, per realizzare un edificio a elevata efficienza energetica che persegue la sostenibilità ambientale e il miglioramento infrastrutturale dei servizi sportivi erogati. Il problema della crisi del commercio a Sondrio, in particolar modo, è evidente proprio perché non si spenga un'altra vetrina. La titolare della libreria Il Faro ha lanciato un SOS ai propri clienti. Ascoltiamolo. Il Faro, che con le sue luci è da sempre il riferimento numero uno per i naviganti, è anche il nome scelto più di 30 anni fa da Maria Grazia Vanini per la sua libreria. E da questo Faro, che da una decina d'anni a sede, la quarta in via Trieste a Sondrio, proprio qualche giorno fa è partito un avviso ai naviganti. L'ha fondata mia mamma e io l'ho seguita e adesso mi sono presa la responsabilità di portare avanti il suo sogno che è diventato anche il mio. In questo momento però ho bisogno di una mano perché stiamo attraversando un po' di difficoltà e quindi ho chiesto aiuto molto umilmente, col cuore in mano. Io sono sicura che molte persone, anche loro di cuore, aiuteranno perché si fa sì che la libreria vada avanti. Per portare avanti la libreria fondata dalla mamma, mancata alcuni anni fa ma sempre presente in foto, a sorridere a chiunque varchi la porta del Faro, Viviana nei giorni scorsi ha scritto un testo che poi ha diffuso attraverso i social. Le difficoltà economiche rischiano di chiudere questo capitolo della nostra storia comune, scrive rivolgendosi ai clienti. Ma non posso, non voglio accettarlo senza prima rivolgermi a voi, la mia famiglia allargata di lettori e sognatori. Ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno di quelli tra voi che credano nel valore di questa libreria, nella magia di questo luogo e dei suoi contenuti. L'aiuto, nello specifico, consiste nell'acquistare entro fine agosto, il tempo stringe, una tessera prepagata da 100 euro. Non una donazione dunque, ma una card che consentirà di avere uno sconto del 15% su ciò che si vorrà acquistare. Obiettivo, raggiungere quota 300 entro fine mese per poter continuare, scrive Viviana, ad essere quel faro di cultura e comunità che so essere importante per molti, quanto lo è per me. Ho già riscontro, abbiamo già fatto 35 tessere fino adesso e vedo che comunque le persone mi scrivono, mi telefonano, che arriveranno, che faranno. Quindi le previsioni sono che le risposte come le aspettavo perché so che molte persone sono molto affezionate al faro e sono molto attaccate anche al fatto che è un punto di riferimento. Il faro, va detto, non è una libreria tradizionale. Da sempre accanto a classici e best seller si trovano testi di New Age, esoterismo, religione e medicina alternativa, ma propone anche incontri dedicati a chi ama allargare i propri orizzonti, pietre, cristalli, oli essenziali, incensi. Insomma, un vero unicum che rischia di scomparire. Da qui la corsa contro il tempo, attivata da Viviana attraverso la vendita delle tessere, affinché a Sondrio non si spenga l'ennesima vetrina. Aiutare l'economia locale perché è importantissimo. Se no, la città muore e i nostri giovani e i nostri ragazzi non troveranno più lavoro qua perché se chiudono attività e negozi anche qui saranno costretti a andare via per forza. Viviana e la sua inseparabile Joy ce la stanno mettendo tutta. La mamma penso che sarebbe contenta e orgogliosa di questo perché vede che io sto comunque combattendo per portare avanti anche il suo progetto e penso che da lassù dove è si sorriderà e mi aiuterà. In bocca al lupo a Viviana. Abbiamo finito. Grazie per l'attenzione. Un buon proseguimento di serata. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.